Potremmo già servire per ottenere quella deroga a Expo? No, ho detto che noi ci siamo portati avanti e che noi siamo già, non è che chi è andato stamattina non sapeva che dire, noi domani andiamo in giunta e liberiamo le procedure della spending review, tanto per dirvi che siamo stati sul pezzo, che non ci siamo, ci siamo con grande precisione, è duro. Centrificazione giornalistica, è la spending review che potrebbe far ottenere la deroga su Expo? E' l'intuizione di fare il minaccio serio, di fare ottenere la deroga, che si è seri, prima o poi si riesce a farlo capire in Italia, sono lì. Io continuo a prendere il tazzo, subiamo. E mi sembra che... ...è una domanda che deve essere, diciamo, rispetto al mittente, perché se domani non ci siamo, qui c'è un comitato, un gruppo di lavoro, coordinato dal ragioniere generale, vuol dire che vogliamo fare un lavoro serio, vuol dire che dobbiamo camminare tutti i responsabili del settore e cominciare ad analizzare il capitolo, il titolo. Se io adesso le dico, no, io taglio lì, ma credo che sei poco serio, perché come faccio a dire dove taglio se ancora non ho visto come sono l'arte? Che tempi prevedete di seguire per questa review? Più rapidamente possibile. Tutte queste cose devono...